Oggi vi presento un importante recupero del cinema italiano degli anni cinquanta, un film diretto da Enzo Trapani che affronta una tematica molto scabrosa per l'epoca ovvero quella della droga. La tematica della droga era già stata affrontata nel cinema italiano in pellicole come Roma città aperta e Fumeria doppio diretto da Raffaello Matarazzo nel 1947 e qui Enzo Trapani lo fa in una maniera più aperta, in una maniera più innovativa. Il film si basa su un fatto di cronaca realmente accaduto e la sceneggiatura viene realizzata dallo stesso regista in collaborazione con Leopoldo Trieste che diventerà molto celebre nel 1952 grazie al ruolo principale nel film Lo Sceico Bianco diretto da Federico Fellini. Il protagonista del film è Stefano interpretato da Ermanno Randi che raggiunge Roma per ritrovare la sorella Lucia che da diversi mesi non dà segni di vita. Si reca nella casa dove la ragazza presta servizio ma nessuno da diverso tempo ha informazioni su di lei. Inizia così una sua indagine personale che lo porta a conoscere un artista di varietà e alcuni malviventi specializzati nel traffico di cocaina. Fin dai titoli di testa notiamo la particolarità di questa pellicola. Infatti i vari cartelli con i nomi di protagonisti sono alternati ad alcuni primopiani molto serrati di loschi malviventi che sono illuminati con una luce dal basso molto molto forte che ci fa entrare subito in un'atmosfera da film noir. Gli ambienti rappresentati all'interno del film sono cali notturni dove si canta in lingua inglese e queste sequenze sono molto interessanti perché anticipano un po' quella che sarà la cifra stilistica di Enzo Trapani, futuro noto regista televisivo. Poi passiamo nei vari commissariati dove si contraddistingue la figura dell'attore Umberto Spadaro che interpreta molto bene questo ruolo di poliziotto e poi vediamo anche gli ambienti della malavita dove la droga viene nascosta nei tacchi delle scarpe un po' come faceva la famosa attrice Carmen Miranda. Si sente molto la mano del regista con un utilizzo della macchina da presa molto mobile e che si concentra proprio su dei primi piani molto serrati. Degno di nota è il cast del film su cui primeggia un attore poco ricordato, Armando Randi, che aveva esordito prima teatro, era stato scoperto pensate da Anna Magnani, dopo aver partecipato alla seconda guerra mondiale nella famosa divisione folgore, esordisce nel 47 grazie a Giuseppe De Santis nel film Caccia tragica. Ma è grazie alla pellicola successiva del 49 di Aldo Vergano in fuori legge che trova una certa notorietà in Italia. Dopo aver girato l'Ebra Bianca partecipa addirittura a tre film che usciranno purtroppo postumi, che sono Trieste Mia, Salvate Mia figlia e Una madre ritorna. Nel novembre del 1951, dopo un'estenuante giornata di riprese per il film di Mario Costa Trieste Mia, nel quale tra l'altro si racconta, ripetè più volte, la scena della sua morte appunto nel finale di questo film, rientrato a casa, viene freddato con tre colpi di pistola per gelosia dal suo compagno Giuseppe Maggiore. All'epoca la vicenda fece molto scandalo e molto probabilmente per questo motivo la figura di Ermano Randi cadde nell'oglio. La sua partner nel film è l'attrice canadese Lois Maxwell, che era arrivata in Italia nei primi anni 50. Qui interpreta alcuni film e si diletta anche, raccontano le cronache dell'epoca, in alcune gare automobilistiche. Il suo nome è legato alla serie di film 007, nei quali interpreta dal 1962 al 1985, per la bellezza di 14 film, il ruolo della segretaria di M. In un piccolo ruolo troviamo una giovane Sofia Scicolone e in un ruolo non da protagonista troviamo anche Amedeo Nazari. Una piccola curiosità, l'assistente di edizione del film è il futuro regista Sergio Corbucci.